Amici di Experience, ciao a tutti! Come promesso eccoci qua con i pronostici della seconda giornata. 3, 2, 1 Prima partita, Milan-Brescia, sabato ore 18 Siamo stati un po' sorpresi dal Milan che ha mostrato poca vene realizzativa. Non ha creato occasioni facendosi carico di un gioco farraginoso e poco proficuo. Per cui preferiamo non pensare che il Milan possa andare a valanga contro la matricola carica ed euforica. Diamo la preferenza a una combo 1 e 3 meno e x Copertura, 1 e 3 e più Seconda partita, Juventus-Napoli, sabato ore 20 e 45 La Juventus come previsto ha portato a casa i tre punti vincendo 0 a 1 al Tardini di Parma. Questa settimana si prospetta contro il Napoli un match più interessante. Sappiamo bene che il Napoli da qualche anno è la seconda forza del campionato e anche quest'anno vorrà dire la sua. Comincia infatti con una vittoria all'Artemio Franchi di Firenze per 4 a 3. Allo Stadium, scontro duro. La nostra giocata sarà 1 e x La nostra copertura 1-2 e 3 meno Terza partita, Atalanta-Torino, domenica ore 20 e 45 Queste squadre le vediamo ben organizzate già dal campionato precedente E quindi partita non facile da pronosticare L'Atalanta rinata contro la spalla con una clamorosa rimonta in trasferta Incontra un Torino soddisfatto dalla vittoria in casa per 2 a 1 La nostra giocata sarà 1 x 1 a 5 gol Ed ancora, x handicap, x x handicap Quarta partita, Genoa-Fiorentina, domenica ore 20 e 45 Abbiamo visto il Genoa uscire indenne dall'Olimpico di Roma con il risultato di 3 a 3 Pensiamo che col punto guadagnato contro i giallorossi La squadra di Andrea Zoli quasi sicuramente non giocherà sotto pressione Dal canto suo la fiorentina padrona di casa Pure essendo andati in rete per ben tre volte Ne è uscita sconfitta E probabilmente cercherà di riscattarsi al Ferraris di Genova La nostra giocata principale sarà 1 a 2 gol Trasferta è under 2.5 Nella copertura giocheremo over 2.5 Quinta partita, Lecce-Verona, domenica ore 20 e 45 Partita proibitiva la scorsa settimana per il Lecce a San Siro È stata infatti travolta dai padroni di casa con un risultato di 4 a 0 Questa settimana, la probabilità che vada in rete è più alta Se diamo un'occhiata al testa a testa Notiamo che il Lecce ha vinto contro il Verona Sia all'andata che al ritorno Per cui, prevediamo una maggiore attenzione del Verona in fase difensiva Verona reduce peraltro da un'ottima prestazione contro un Bologna nettamente favorito Ha giocato 80 minuti con un uomo in meno a causa dell'espulsione del difensore polacco In 10 uomini ha recuperato sul Bologna che vinceva 0 a 1 E poi, si è difesa con coraggio fino alla fine Ottenendo un punto col risultato di 1 a 1 La nostra scommessa sarà casa under 1.5 Copertura Sostituzione della partita stessa con X Suolo e X Udinese Che sta settimana la nostra giocata principale sarà costituita da 4 schedine Abbiamo un leggero vantaggio economico e quindi optiamo per un sistema che ci dà un po' di sicurezza in più Ragazzi, parliamoci chiaro Questa settimana sarà dura, anche per i duri Come potete vedere, 4 bollette coprono la giocata principale Non dimenticate di giocare le bollette con le coperture Inserendo e sostituendo le partite e le quote in modo corretto Una buon weekend a tutti Divertitevi La buon weekend a tutti